Erika Stefani, la Lega Nord perché sta facendo ostruzionismo in Senato? Stiamo facendo ostruzionismo perché questo governo ancora un'altra volta, perché ha già fatto quest'estate uno svuotacarceri, adesso ne fa un altro e ce ne aspettiamo ancora, fino magari a un famigerato indulto. Ma quello svuotacarceri di oggi è veramente un indulto mascherato, perché prevede sostanzialmente veramente l'arresti domiciliare, la reclusione domiciliare per tutti i reati con pena fino a tre anni e con la possibilità che si applicano anche a reati fino a cinque anni di pena. Stiamo parlando di reati comunque, se non gravissime, comunque dei reati che creano allarme sociali. Non è il momento storico sicuramente per liberare criminali, è un momento di crisi, è un momento di difficoltà e la gente vuole sentire la sicurezza attorno a sé e non certo un clima così che viene creato con questo governo e con queste decisioni. Inoltre il governo sta pensando di togliere il reato di immigrazione clandestina. In più, in questo provvedimento, come mancasse altro, viene aggiunta anche una parte relativa alla depenalizzazione. La depenalizzazione che riguarda anche altri reati, fra cui l'ingiuria, per cui potremmo a questo punto essere considerati liberi di ingiuriare, se non pagando poi una somma, eventualmente a titoli di risarcimento. Ma in mezzo ci troviamo anche questa abrogazione del reato di immigrazione clandestina, che è gravissimo a nostro avviso, era un ultimo baluardo per disincentivare un flusso purtroppo di umano, un flusso anche di miseria e di tristezza da parte di queste persone, però che vengono qui senza lavoro, senza possibilità poi di identificarli e a creare e alimentare purtroppo di mercati non certo leciti. Grazie.